Chianti Banca ancora a fianco del Pistoia Basket 2000 ha rinnovato l'accordo con l'importante banca di credito cooperativo della Toscana con la società Biancorossa. Devo dire che Chianti Banca è impegnata sul territorio pistoiese ma non solo, su tutto il territorio regionale in quanto banca principale a livello di credito cooperativo a livello toscano nella cultura e nello sport. E quindi per quanto riguarda nello specifico lo sport come non aderire, ormai è una tradizione che si rinnova negli anni a quella che è la collaborazione, perché io la chiamerei più una collaborazione che una sponsorizzazione, con il Pistoia Basket. Tutto il Pistoia Basket sul territorio siamo impegnati anche con il calcio, la pistoiese, con il tennis, tennis club Pistoia e poi anche con sport che ci ricordiamo solo in occasione di eventi internazionali, olimpiadi, campionati del mondo ma che allo stesso tempo danno lustro alla nazione ma che possano dare lustro anche a un territorio quale quello pistoiese. E mi riferisco all'atletica, mi riferisco alla ginnastica e anche alla scherma. È una partnership direi più che decennale fin da tempi della banca di Pistoia, l'istituto di credito ci ha sempre sostenuto e anche quest'anno a prescindere dai soci storici la Chianti Banca è stata assolutamente tra i primissimi a confermarci la fiducia. Di questo ringraziamo e ci auguriamo che questa decisione così sollecita possa essere da traino anche per altre importanti verifiche. È un momento complicato per la pallacanestro, un momento complicato per la nostra economia, quindi far sentire la nostra presenza a fianco di una realtà come il Pistoia Basket credo sia ancora più importante. È una società che non sta a me presentarla, però mi fa piacere raccontare di una banca del territorio che nelle espressioni poi vere del territorio va a sostenerle e vorrei ricordare l'impegno del Pistoia Basket non solo in termini di pallacanestro italiana che sappiamo tutti e sta vivendo un momento complesso ma anche nell'impegno quotidiano per i nostri ragazzi e per le ragazze perché è una società che insomma sta investendo nel territorio e una banca di territorio non può che essere al fianco.